bello a tutti ragazzi siamo a questo nuovissimo gioco ok questo gioco non l'ho ancora provato e lo proverò ora perchè come sempre girando su play store ho trovato questo gioco beh lo installiamo e quindi lo vado a provare con voi ecco touch to start tocca lo schermo per partire perfect 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 good ah ma stessa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 8 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 15 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 16 15 16 16 15 16 16 14 18 perché questa pubblicità buona buona un po' di 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 che era che dove vai un po' un po' del la cosa vedi loco costrui da ah buon imbocci vai buon buon ah 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 Shiii Shiii, io vinto Shiii Shiii Sirenza subito Ragazzi Strato Sirenza subito Vai Sirenza subito Sirenza subito Sirenza subito Sirenza subito Sirenza subito Oh Perché avanti colpisci E' colpito Oh stendilo, forza! oh no, quanto tanto mi ha fatto si, lo stesso grande ragazzi KO, evviva e ho vinto anche stavolta sono super muscolato perchè questa pubblicità grazie